Bitcoin Armageddon 2024. Che cosa rappresenta in termini di rischio sistemico l'avvertenza legale tra Copa e Craig Wright? Andiamo per gradi perché uno degli argomenti più sottovalutati in termini di cignogrigio attesi per l'inizio del 2024 e vi fa capire per quale motivo la SEC ha continuamente posticipato l'approvazione dei tanti decantati ETF spot su Bitcoin proprio per quella data perché con grande presunzione per quella data dovrebbe arrivare la sentenza di chi? della Alta Corte di Giustizia inglese specializzata come potete notare per i reclami o tutte le pretese riguardanti la titolarità della proprietà intellettuale perché è proprio di questo che si sta parlando da più di un anno e mezzo ossia la faida che ha portato avanti Copa per chi non sapesse cos'è Copa è una sigla e come potete notare sta per Crypto Open Patent Alliance in cui i members, coloro i quali hanno dato vita a questa community di rappresentanti portatori di interesse in seno alla Bitcoin community a livello mondiale come potete notare abbiamo Coinbase, Meta, Micro Strategy, poi se scendiamo Arch Investment, addirittura anche in casa nostra e in Italia Chexig, Kraken, Uniswap, Satoshi Lab e così via Worldcoin e così via discorrendo Blockstream anche mi stavo dimenticando quindi stiamo parlando di interlocutori di prestigio con notorietà mondiale che si sono messi insieme per confutare che cosa? La tesi di Craig Wright il quale ritiene di essere l'autore del famoso white paper di Bitcoin e pertanto di poterne vantare la paternità per questo motivo è una causa oltretutto organizzata dove in un paese di common law il che significa avere poi qualora ci fosse un'espressione della Corte che darà ragione a Wright tutta una serie di conseguenze in almeno tre quarti del mondo perché è un rischio sistemico identificabile tranquillamente come un cigno grigio beh in prima battuta per quello che abbiamo appena menzionato sappiamo che questa vicenda è ormai in gestazione da più di un anno e mezzo e l'aspetto ancora a mio modo di vedere particolarmente inquietante che fa capire la pericolosità e la delicatezza che ha questa questione è il fatto che Copa si fa difendere non da uno studio legale improvvisato ma uno dei migliori studi legali al mondo specializzati in che cosa? proprio in proprietà intellettuale infatti qualora ed è questo l'aspetto che deve far riflettere chi ha una forte esposizione in Bitcoin perché in prima battuta si ritiene soprattutto all'interno delle crypto community che questa vicenda legale avrà un esito favorevole per Copa quindi sostanzialmente si ritiene che Wright perderà e pertanto nel momento in cui perde cessano tutte le sue future e potenziali pretese riguardanti la gestione la titolarità solo del termine Bitcoin se invece vince cosa che effettivamente e potenzialmente dal punto di vista giuridico possibile perché la mole di documentazione e di evidenze che vengono portate da entrambe le parti è talmente copiosa articolata raffinata e soprattutto di spessore elevato spessore probatore da entrambe le parti questo fa capire che se ci fosse un'espressione di questa portata per Bitcoin così come lo conosciamo oggi è la fine è la fine se non altro del suo nome perché l'unico Bitcoin che potrà chiamarsi in questo modo sarà quello di Wright ossia il Bitcoin SV Satoshi Vision l'altro quello che oggi conosciamo come Bitcoin dovrà ridominarsi in qualcosa c'è chi parla di Bitcoin Core o Core Currency o comunque quello che deciderà in quel momento Wright qualora ci fosse questo tipo di questo tipo di espressione da parte della Corte quindi analizzando i fatti dal punto di vista della gestione del rischio finanziario non è casuale che la SEC abbia posticipato in un periodo storico in cui arriverà la sentenza e oltretutto se quella sentenza immaginate lo scenario a livello mondiale se arriva a quella sentenza tutti gli ETF che devono essere approvati su Bitcoin si fermano perché la SEC non può dare approvazione a quello che dovrebbe essere il Bitcoin così come lo concepisce le persone le common people le persone comuni e quando invece un tribunale inglese specializzato in tutela del diritto della proprietà intellettuale sancisce qualcosa di completamente diverso dicendo attenzione guardate che Bitcoin da adesso in poi è questo non più quello che per ragioni anche di visibilità mediatica abbiamo sempre conosciuto è per questo motivo che potete immaginare le conseguenze qui c'è MicroStrategy qui c'è Coinbase c'è Kraken c'è Lisk Stax WorldCoin BitPay ARK Investment stiamo parlando di soggetti che hanno tutti una forte avranno tutti un forte impatto piuttosto anche negativo qualora si dovesse verificare questo tipo di scenario io qua lo continuo a ripetere e mi sembra di essere anche un po' l'unico che si sta rendendo conto io parlo finanziariamente parlando di questo tipo di rischio che ricorda perfettamente quello che accade con la Brexit la Brexit andò in scena grosso modo con lo stesso tipo di scenario ossia si sapeva che per quella data ci sarebbe stata il referendum si sapeva del potenziale rischio di vincita del fronte Liv si riteneva che la maggior parte della popolazione non fosse così stupida o credesse nella retorica del fronte Remain e poi abbiamo visto che cosa è accaduto si è accettato un è stata emersa un'espressione di voto popolare che poi ha prodotto negli anni successivi tutta una serie di conseguenze spiacevoli in questo caso qui per la popolazione del Regno Unito per chi l'ha vissuta quella fase quel giorno specifico ricorderà che cosa è accaduto i mercati che aprirono a meno 10% e probabilmente sarebbero andati anche oltre se non ci fosse stato il congelamento delle quotazioni quindi in sintesi estrema per fare un richiamo a questo scenario letteralmente da Armageddon con un worst case che potrebbe verificarsi io non dico che si verificherà però stando a tutti questi elementi di profondo spessore quindi chi difende Coppa gli interessi di Coppa il fatto che da entrambe le parti la strategia da una parte difensiva dall'altra accusatoria non è affatto scontata cioè non è affatto scontato che quello che si fa portafoggi Coppa per smentire le pretese di Wright possano essere poi definitivamente avallate e viceversa il contrario tra l'altro Wright in qualità di multimiliardario australiano con residenza fiscale in Regno Unito è supportato a sua volta da un cospicuo numero di Bitcoin di Vilo core Bitcoin di Vilo per quindi non stiamo parlando di Don Quixote che va contro i molini avvento tutt'altro qui abbiamo un interlocutore che solo per il fatto di riuscire a portare una causa una avvertenza giudiziaria di quello spessore ha fatto muovere interessi di controparti di portata mondiale e questo vi dovrebbe preoccupare perché se fosse veramente un disperato alla ricerca di notorietà o mitomane non ci troveremmo in queste condizioni e tantomeno negli Stati Uniti aspetterebbero l'esito di quella avvertenza giudiziaria prima di accendere la luce verde su i famosi tanto decantati ETF Bitcoin per il mercato statunitense immaginate infatti la figura che farebbe il regolatore statunitense se approvasse all'inizio gennaio e una settimana dopo esce in Inghilterra il giudizio di un tribunale che sancisce che quello non è Bitcoin si tratterebbe di un danno di immagine oltre che di credibilità di portata mondiale quindi non è casuale che abbiano rispostato in avanti e plausibilmente se per quella data non dovesse arrivare l'espressione della Corte perché nel fattempo possono essere presentati messi in discussione varianti interpretative e così via pertanto la Corte Inglese rimanda il giudizio a qualche mese dopo potete stare confidenti che farà altrettanto la SEC perché non si può prendere questo tipo di rischio né tanto meno lo possono fare le case di gestione nel momento in cui dovessero andare a prospettare alla clientela questo è il nostro ETF approvato qui dentro c'è Bitcoin il Bitcoin che tutto il mondo conosce poi a distanza magari di due settimane devono fare marcia indietro e rettificare il tiro a quel punto non avrebbero più uno strumento finanziario che investe in Bitcoin avrebbe uno strumento finanziario che investe in qualcosa che si dovrà richiamare ridefinire ridenominare con un altro appellativo attenzione qualcuno potrebbe anche chiedersi sarebbe la fine a quel punto per il mondo crypto assolutamente casomai l'esatto opposto nel momento in cui ci troviamo nelle condizioni di mettere in dubbio che cosa sia Bitcoin c'è tutto il sottobosco ossia quello che oggi crea adozione quello che sta realizzando casi d'uso a quello che si inizia a vedere anche in temi di opportunità di investimento grazie a ETF o ETN che danno esposizione su almeno una dozzina di altcoin ad elevata capitalizzazione quindi potremmo assistere a un fly to quality di certo se arriva a questo tipo di espressione da parte della corte inglese dobbiamo ipotizzarci una elevatissima volatilità sul prezzo di Bitcoin scarichi pesanti di chi scappa si libererà di Bitcoin per andare a comprare che cosa quello che sarà ritenuto ai sensi della tutela delle proprietà intellettuale il vero Bitcoin secondo il white paper di Satoshi Nakamoto che a quel punto sarà individuato in Craig Wright attenzione perché io continuo a sentire commenti idioti stupidi ridicoli ignoranti da parte di ovviamente il mondo massimalista che se lo andate a soppesare per loro spessore professionale non c'è nessuno che è laureato in leggi in giurisprudenza o che tantomeno l'abbia studiata qui stiamo parlando di una faida legale con due controparti che si stanno letteralmente scannando e hanno dei rispettivi difensori di livello e prestigio mondiale non l'avvocatucolo di quartiere ma uno tra i più grandi studi legali assistenza legale a livello mondiale specializzato appunto in proprietà intellettuale e per questo motivo che si parla di cigno grigio e per questo motivo che a inizio del 2024 potremmo avere un Armageddon per Bitcoin e a quel punto sarebbe game over per i massimalisti che hanno per anni continuato a decantare ce n'è solo solo 21 milioni sì ma non di quello che hanno preteso loro ma dell'altro quello che oggi viene denigrato ossia il Bitcoin Satoshi Vision quindi dal mio punto di vista adesso continuerò a monitorare il sentiment anche dei bookmaker perché su questo tipo di evento si può già oggi scommettere per rendersi conto dove potrebbe andare a varare come potrebbe esprimersi la corte e qualora questa percezione di rischio fosse particolarmente significativa se si detengono posizioni particolarmente elevate bisogna proteggerle e le soluzioni sono due o si smobilizza si smobilizza che ne so una settimana prima dell'attesa del giudizio per poi ritornare eventualmente a comprare una volta che quel tipo di rischio lo sia alle spalle o in alternativa ricorrere a determinati strumenti per effettuare coperture tipo opzioni o anche contratti future di certo rimanere rimanere con le braccia conserte aspettando che non si verifichi niente di tutto questo se si hanno delle dotazioni particolarmente modeste va bene chi se ne frega se si ha un'esposizione invece piuttosto corposa significativa sul mercato è opportuno prendere le opportune misure ritorneremo qui a commentare il tutto tra magari prima di Natale perché potrebbero nel frattempo essere trappelate alcune indiscrezioni sulla casistica legale che potrebbero far presagire dove quale modalità di espressione potrebbe avere potrebbe scegliere la corte in questione lo ricordo ancora una volta proprio come la Brexit sappiamo che c'è un evento sappiamo che può destabilizzare profondamente il mercato per sempre cambiando anche quella che è tutto lo storytelling su che cos'è oggi Bitcoin e chi è lo stesso Satoshi Nakamoto pertanto io starei ancora particolarmente vigile attento prima di alzare la bandierina verde e dire finalmente possiamo ripartire e confidare su Bitcoin perché potrebbe proprio come lo dice il termine stesso di questa clip essere un inizio d'anno particolarmente nefasto e qui non si tratta di un fondo di investimento qui non si tratta del ban di una nazione qui si tratta di una sentenza che fa stato nel mondo della common law il quale viene utilizzato da circa tre quarti del mondo del pianeta soprattutto economie avanzate trovate in descrizione tutti i riferimenti per andare a approfondire il caso e soprattutto conoscere dettami legali le arguzie che vengono evidenziati da entrambe le parti con il fine di con il fine di portare a vincimento il giudizio se perde coma se perde copa ricordatevi Bitcoin game over